ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video eccoci qua con un'altra puntatina dedicata alle vostre collezioni e ai vostri orologi per partecipare dovete realizzare un video anche con lo smartphone per ogni orizzontale che non duri più di sette minuti altrimenti ci trituriamo gli scatoloni e che sia di qualità buona che sia anche abbastanza diciamo parlato come si suol dire cioè usate termini un modo di esporre coinvolgente nei limiti delle vostre possibilità altrimenti se poi non siete concisi e spigliati diventa di nuovo un trituramento di scatoloni non solo per me per tutti quindi mi raccomando sovra pressione vedete come l'email alla quale mandarlo ora prima di passare ai vostri simpatici video vostro percorso come si suol dire al grande fratello vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo bellissimo omega constellation 39 mm di diametro cassa calibro in house con scappamento coaxial orologio che è bellissimo è una di quelle soluzioni con bracciale integrato che sono originali no omega l'ha sempre fatto così non si è spostata da lì non ha non è andata dietro la moda degli stilemi gentiani che fortunatamente ora stanno anche un pochino no placandosi perché non si può più di orologi con bracciale integrato ma questo è invece per me un bello orologio a molti non piace non è non è un orologio per tutti è un orologio per gente che piace alla gente che piace piace alla gente è capito alla gente che piace vabbè adesso guardiamo il primo video vai ciao davide ciao reala calta miss andrea dalla sicilia sicilia e ti seguo da tantissimo tempo volevo presentarti qualcosa di diverso anche io dai orologi te li presenterò magari in una seconda puntata ma ti voglio far vedere qualcosa che non si è mai visto nel tuo canale ovvero te lo presento il mitico atmos movimento eccezionale due oscillazioni al minuto una meccanica incredibile ti faccio vedere lateralmente allora ragazzi il bilanciere è quello che vedete orizzontale in basso quello che oscilla così fa due oscillazioni al minuto ecco cosa detto due oscilla non mi ricordo più due oscillazioni al minuto questo ha sta a significare come esempio che non è l'alta frequenza indice di precisione cioè un orologio che va a 222 oscillazioni al minuto è bassissima frequenza perché perché non importa quanto alta sia la frequenza ma importa quanto sia regolare questa frequenza ok quindi anche se va a due alternanze allora al minuto ma non ci frega niente basta che siano regolari precise e l'orologio è preciso ok è uno questo qua l'atmos è un orologio che praticamente è quasi il moto perpetuo perché hanno c'è un sistema dove c'è una una capsula dove è contenuto un gas che si dilata a seconda della temperatura per cui basta un grado di temperatura per farla dilatare tanto da fargli tenere mi sembra un giorno o due di carica di riserva di carica quindi va tutto in base alla temperatura non c'è nessuna molla da caricare o nessun massa oscillante qua c'è una membrana in base alla temperatura è praticamente quasi il moto il moto perpetuo è ciò che si avvicina di più che ha creato l'essere umano al moto perpetuo mi sembra di aver capito letto da qualche parte che questo orologio può andare avanti senza interventi di manutenzione per 600 anni mi sembra di aver capito è una roba del genere comunque è l'oggetto meccanico più vicino al moto perpetuo che l'essere umano abbia mai costruito come puoi notare sulla destra c'è praticamente il sistema di ricarica tramite questa questo polmone è una spirale riempita di un gas che con la temperatura con le variazioni di temperatura si dilata e si contrae è collegata collegato appunto ad un ad una catena permette non so se si vede di ricaricare la molla quindi fondamentalmente parliamo di moto perpetuo vedi secondo me qualcosa veramente che le cult ha creato tantissimi anni fa ma ancora oggi è molto attuale sì sì ma è ancora è ancora catalogo in vendita e volendo non costa nemmeno tantissimo è un esempio di di ingegneria umana altissimo praticamente un'autonomia è limitata con una variazione di circa mezzo grado c'è un'autonomia di circa 48 ore del di tutta la macchina questo nello specifico come vedi ha un quadrante blu è in pasta di lapislazzuli lo chassi è tutto in ottone in base al numero di matricola per scritta vedi non so se si legge insomma praticamente ecco messo a fuoco è del 1971 in base appunto agli studi e rilievi che ho fatto che dire niente ci tenevo a presentartelo fatto bene non si è mai visto appunto come ti dicevo il tuo canale penso che sia una novità un po per tutti io lo posseggo con tantissimo orgoglio spero appunto un domani di poterlo tramandare ai miei nipoti non ho figli e niente è tutto è la prossima per farti vedere i miei orologi va bene però appunto che pubblicherà certo video certo è love 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 ciao ciao lo pubblichiamo perché perché è un esempio di un orologio un sistema che serve anche ai neofiti o ai ragazzi che stanno guardando no così tra uno scherzo e l'altro si fa anche un po di informazione seria questo qua è un orologio che ti dici tramanderò ai miei figli è voglia nel senso che è proprio uno di quegli di quelle macchine di quei sistemi chiusi che ha senso tramandare no il contro di questo orologio quale che se ci fosse bisogno di un intervento di manutenzione che è veramente delicato e particolare deve lo può fare solamente giugio del culto devi mandare in svizzera a casa madre e chissà quanto tempo tengono anche perché tutti i ruotismi che sono all'interno sono stati realizzati progettati ingegnerizzati per avere il minimo attrito possibile il minor numero di componenti con il minor numero di attriti possibile perché perché va da sé che l'energia a disposizione per muovere il tutto è poca è data dalla membrana dal gas che si che si che si espande e quindi anche il bilanciere sotto che oscilla a due oscillazioni per minuto che sono poche è per quel motivo lì per non consumare energia è anche appeso ad un filo che tramite il quale l'attrito è quasi zero cioè gli attriti sono veramente veramente basse e c'è anche il rischio che sia molto delicato magari un urto ecco un urto lo tieni in un posto dove sono i bambini insomma è delicato il punto negativo è che è delicato però è sicuramente un bel esempio di sistema da tramandare di padre figlio per generazioni se ci arrivi alla 6 centesimo anno lì come dicono loro ai vogliati comunque grazie per averlo mandato e spero vi sia piaciuto e andiamo avanti ciao davide ciao e le da roma complimenti per il canale un saluto a tutti tratti che ci stanno guardando salutore ti mostro subito l'orologio del giorno che questo va è stupendo 6,5 6,5 bellissimo bellissimo movimento a vista il 26 guadagna 25 secondi al giorno una bomba una bomba primo roggio glissin combat sub da 39 questo è bello tanta roba molto ben fatto si portabilissimo certo mi piace poco il bracciale con la maglia lucida centrale però porto spesso sei uno dei pochi che ti piace la maglia lucida bravo a seguire emilton cagifilp da 38 a coli tantissimi i motivi sono anche ovvi ovvi veramente ben fatto premium primi penso perché questo lo sbatto dovunque quando lo porto addosso ai stipidi delle porte infatti un po' graffiato e va beh dai pure ci sto anche attento non ti abbattere anche il calibro h10 bellissimo bellissimo il calibro bellissimo bellissimo oi si ti sento promasterone guerra pepsi pepsi calibro miota serie 8000 questo senza stop dei secondi gli ho messo questo cinturino zulu così estivo ma come estivo par militare a me c'ho fatto il bagno scorsa estate scorsa estate e l'uso per quello che è un bagno ogni due anni va bene seiko skx 007 questo sono revisionato allora ce l'ho anch'io tutti e due e proprio i due orologi che devono che uno vorrebbe avere giapponesi no il citizen pro master e il seiko skx stiamo parlando di orologi entry level diver e tutti e due ce l'ho anch'io c'è il full lume e il skx pepsi e stavo ragionando sul fatto che per completare la triade completare la triade perché io i casi o non li tengo in considerazione in quanto fanno solo quarti digitali no quarzo digitalon non è che fanno orologi meccanici quindi per completare la triade di un citizen un secco e un orient da tenere lì da avere tre orologi no abbastanza più rappresentativi ma di oriente quale si prende perché ne fanno una marea ma con uno baco 2 baco 3 rei 1 rei 2 rei 3 kamasu kamasu 2 kamasu 3 triton orient sport ce n'è una marea ora escono anche ecco forse quello lì è quello da tenere più in considerazione è uscito ora sta per uscire il maco da 40 mm con la ghiera in acciaio ecco quello sarebbe carino da mettere lì come terzo incomodo tra i due boss del reparto diver vedremo quando esce se si può se non si può staremo a vedere dai anno scorso e dai test fatti risulta un meno virgola 3 virgola 3 secondi al giorno è un kosk confermato dall'utilizzo quotidiano il cinturino verrà è veramente un kosk fa meno 3 più tre secondi al giorno tanta roba cioè ha avuto una botta cioè l'hai fatto regolare l'ha fatto revisione va bene speriamo che lo tenga nel tempo perché sai è il tempo che determina se un orologio un calibro è valido o meno no lì per lì regolato lo puoi regolare in un certo range con un po di fortuna anche lì così più 3 meno 3 poi nel tempo le varie temperature le temperature incidono molto su un calibro e 3 level è comunque bel lavoro bravo mente ridicolo sono agli sto in macchina e falso serpente assonagli e allora fa solo pure tutto mamma mia se fa così dicono che un falso bellissimo però qualcuno eccolo pagani ma no per rega omega speed master ma perché 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 calibro mega quarts non lo so perché l'ho preso sinceramente ecco volevo vederlo di vederlo testarlo forse lo venderò e buttalo via cosa vendi chi lo vuole chi lo compra o swatch swatch questo l'ho comprato quando avevo 14 anni yes veramente carino carino cari durante non so se siete dalla luce va verso il grigio azzurrino bello bellino simpatico diciamo un simpatico orologio questo eccolo qua questo è un altro caso a batteria caso a batteria cinturino nato ci sta bene ho messo questo cinturino perché il bracciale originale non mi entrava più cioè avendolo comprato quando ero veramente ragazzino praticamente mi mancava una maglia che non riesco a trovare e va bene comunque questo è uno di quei casi nei quali un casio a casi casi vabbè nei quali un orologio al quarzo entry level economico trova trova la sua collocazione no come io io stesso c'è un time 2 c'è no ho due timex al quarzo ai quali ho messo il cinturino nato da utilizzare in certe situazioni quando anche non è detto proprio in certe situazioni anche quando ne ho voglia lo metto anche anche perché se al quarzo l'importante che sia economico non spendere tanti soldi in un orologio al quarzo questo è il mio pensiero economico con questo bel cinturino nato così leggero fresco estivo e ci puoi fare anche le cose che ti pare a te da da battaglia come si suol dire e io provo questa questa soluzione qua è bravo un bel casetto al quarzetto rimane un quarzo però questo cinturino poi sei con il cinturino potente questo bello bello si cosa la ghiera sembra un po impastata ma come impastata non so se cosa fare cioè nel senso io lo metto sotto sotto l'acqua che do una lavata col sapone così però sembra sempre un po duretta un po impastata rispetto agli altri ma ora io non lo so io ho sempre elogiato la ghiera cioè la percezione della rotazione della ghiera dei secco di questo livello qua l'ho sempre l'ho sempre elogiata perché fluida elegante chic io la definirei quasi chic è veramente veramente piacevole farla ruotare ora non vorrei che te mi dici così però non vorrei che fossi che sei te che la percepisci nel modo differente dagli altri e la giudichi impastata quando invece è normale che sia così perché a me vederla ruotare mi sembrava che ruotava normalmente cioè poi c'è anche quell'altro secco la s k x che è un po meno vellutato come rotazione però più o meno è quella boh non capisco perché dici così quella del del pro master è imbattibile ma come imbattibile senti lì ma come balla anche gli fai così balla proseguo boh ecco adesso samsung gear questo è stato anni fa regalo carino carino non lo metto mai però male il bracciale mi sembra bello del cinturino è ben fatto però vabbè riempio il buco come diceva Rocco si freddi questo orologio che do mio figlio due anni e mezzo quando vede che da una sistemata ai miei diciamo paura orologio 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 gli do questo euro e 50 su aliexpress passa la paura passa la paura ha distrutto brava fermo smontato il movimento c'è in più niente dentro e questo è l'orologio che otto nel cassetto dei nonni simpaticone da tutti ma se è un simpaticone proprio perché volevo dire si dimenticavo questi sono due jungans che vorrei acquistare tutti e due cioè l'ore con il quadrante bianco questo da 38 questo da 34 e un polso 17 e mezzo quali i miei consigli considera che ancora non non li ho provati esteticamente sono più per questo per questo tipo però ho paura quadrante bianco 38 così siano un po troppo grande fammi sapere che ne pensi un saluto un saluto continua così grazie ciao 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 cosa ne penso quale scegliere è difficile cioè stanno bene entrambi uno da 38 uno da 34 però fanno due due effetti differenti al polso quello da 34 mm quello lì piccolino anche senza data è il classico dress watch no te lo indossi è elegante elegante bello proprio fine l'altro invece un po più sportivo anche se da 38 perché anche perché la casa in pivi di nera gli accenti neri il datario è leggermente più sportivo sul mio polso andrebbero bene tutti e due quindi è semplicemente una scelta di di dove da che parte andare un po più sportivo un po più elegante solo quella è la scelta sul tuo da 17 5 ho anche io timore che quello da 38 tutto quadrante possa sembrare troppo grande quello di là però quello piccolino a 34 è molto elegante ti dici ci vorrebbero le occasioni per indossare il dress watch no perché secondo me a parer mio lo puoi indossare anche in situazioni meno formali cioè ti puoi mettere 34 mm anche per andare a fare l'aperitivo anzi lo noteranno di più perché una persona di un certo con un certo stile anche sportivo giovane c'è l'orologino da 34 mm fine perfetto no dicono cavolo questo qua è un intenditore ci capisce di orologi no poi magari non ci capiamo niente ma facciamo finta almeno facciamo finta no quindi non so proprio cosa dirti guarda l'intenzione che vuoi dare te all'orologio sei elegantissimo o un po più sportivo quindi anche anche la prova al polso penso ti potrà togliere qualche dubbio è scusa se io non sono stato tranchant ma ho cercato di darti il maggior numero di informazioni possibile per decidere in autonomia che poi alla fine è la cosa migliore prossimo video ciao davide sono di nuovo lorenzo dal friuli forse riconoscerai l'ambientazione simile a un'altra volta e avevi visto giusto sono appassionato di fotografia è stato il mio percorso di studi anche se ora faccio tutt'altro bravo e no non sono un appassionato di slurpi slurpi come hai detto tu l'altra volta ma le bottiglie sono semplicemente delle lampade slurpi slurpi mi serviva per fare un po di luce detto questo oggi ti voglio mostrare una collezione monomarca monomarca seiko vintage sono due quarzetti ci mancava dai automatici faccio rivedere allora iniziamo subito il primo cos'è è un seiko type 2 type 2 con il suo braccialo originale 35 mm corzo lo uso molto d'estate essendo che non sopporto né il caldo né l'estate in generale mi dà fastidio anche solo respirare questo qua è molto leggerino comodo insomma è uno degli orologi che riesco a togliere sì sì però a me mi sembra quasi che va bene dai niente va bene così va bene così operare al polso in estate il secondo quarzo è un cronografo anni 80 7 a 38 72 80 dell'87 visto come dico io un orologio da alfa dead in questa configurazione acciaio e tra virgolette oro che ovviamente non è oro cosa vuol dire alfa dead 37 mm va bene un orologio che mi piace molto relativamente raro so che può non incontrare il gusto di tutti ma ma a me piace un sacco ma il 7 a 38 se non erro è stato il primo movimento cronografico al quarzo bravo promosso poi passiamo ai due automatici il primo è un Seiko 5 che bello bella cassa 70 12 mi piace automatico il 70 70 05 nel calibro base di Seiko all'epoca senza neanche la carica manuale ferma macchina l'orologio all'epoca anche molto economico però ha un bel design anni 70 ci piace un bel quadrante con indici applicati sempre 35 mm ma a cassa cassa quadreggiante diciamo quadreggiante si porta bene dai è un bello orologio quadreggiante ci inventiamo i termini sicuramente il più bello dei quattro è un lord matic special 52 16 60 50 un orologio veramente molto molto bello ha una forma della cassa molto particolare tutta spettacola curve e a spigoletti diciamo ci piace anche molto bello dove la lunetta si innesta nella cassa con questo scanso un gran bello orologio 35 mm e revisionato completamente sono riuscito a trovargli anche un vetro originale dell'epoca nella sua bellissima scatoletta ganso usurata dal tempo nella sua cartina spettacolo un cimelio e niente tutto qua e niente da volevo mostrarti questa piccola collezione monomarca è fatto bene ti saluto di nuovo ciao ciao grazie per averci mostrato questi quattro orologi seiko vintage due al quarzo due automatici e che questo è un un esempio di come si può instradare la passione in certi ambiti no con certe caratteristiche precise il seiko vintage ad esempio e quindi come io faccio i logi vintage prendo anche quelli al quarzo quelli elettronici quelli al diapason se uno fa i seiko vintage prende anche quelli al quarzo quelli digitali tutto quello che ti parati basta poi chiaro che queste a volte succede che queste cantonate no e poi dopo magari le metti da parte e procedi in un'altra direzione collezionando altre cose altri orologi altra tipologia altro marchio poi dopo un po ci ritorni come faccio io con i secoli logine cioè non è che ogni ogni mese stoline compro uno guardo guardo poi magari ci sono quei due o tre mesi nei quali il mio interesse per l'acquisto di un nuovo longino vintage cara poi è logico no c'è il rimbalzo tecnico e quindi vado su e mi viene voglia come ora questo il periodo sto aspettando qualche fiera interessante no piuttosto che andare ai mercatini dove c'è uno due banchi e dopo ti trovi non c'è niente a volte poi dopo lo prendi per forza perché ormai sei lì aspetto che ci siano quelle due o tre fiere di settore con i banchetti come si deve per scrutare se c'è un longin come si deve no ecco tutto questo per dire mi sono mi sono un po dilungato per dire che è l'esempio della collezione settoriale con un senso personale prossimo video ciao davide ciao presento la mia piccola collezione prima prima di prima di presentarmi la facciamo un elogio alla tua tovaglia per la serie le tovaglie dei nostri amici appassionati qui abbiamo una tovaglia con le mandala questa quella mandala è una mandala quella indiana no una serie di incroci di bravo e per ora come premio originalità vinciti non è tanto kitsch quanto altre che il premio kitsch lo daremo ad altri quella con le paperelle era il top va bene andiamo avanti prendo da un citizen ecotribe in titanio è uno dei miei primi orologi un po' graffiato un po' dei segni poi super titanio passiamo a un bolova 666 devil diver e questo è stato un regalo di miei genitori per la laurea infatti c'è anche incisione a dedica bello e la data della laurea o questa qua mi piace questa cosa qua con l'incisione dietro mi piace perché perché non ti venisse lo scrivizzo no a volte no non lo vendi non lo vendi perché ce la dedica dietro non puoi nemmeno far finta no non me l'hanno regalato adesso lo vendo ci faccio 50 euro no ce la dedica dietro è un ricordo bello 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 mi piacciono queste cose mi piacciono poi un classico seco 5 che sono tutti ma molto bello simpatico molto bello simpaticissimo poi poi un citizen pro master questo per il mare è certo per la montagna dove lo vuoi andare al mare poi andiamo su un seco 5 sport sport tutto verde verde è piaciuto e ho deciso di prenderlo tutto quanto verde fatto bene poi un timex eccolo lì è piaciuto questi cinturini in pelle poi quadrante bianco argento bello questo qua e poi come ultimo come penultimo orologio che ho visto il tuo video e quindi ho subito l'ho subito preso è un quadrante blu mi è piaciuto un sacco mi sono piaciuto un sacco le sue forme e quindi certo non ho esitato a prenderlo ora a proposito l'idia blen bello orologio questo c'è non c'è nessun dubbio e mi era capitato in mano il negozio da giacomo della giovedere pasquale domenici quello quadrato si chiama erblen cap camarade come questo square chiaramente perché quadrato e lo volevo recensire io lo volevo portare sul canale non mi riesce non ci riesco perché ogni volta che glielo chiedo l'ultima volta che gli ho chiesto ce ne avevo cinque ho venduti le ha venduti vanno via come il pane io non riesco a capire cosa ci sia di così cioè sono belli l'ho provato anche mi sta bene 40 mm a me che i quadrati non è che mi fanno impazzire quello lì mi sta bene non so come mai forse fatto particolare in modo particolare insomma lo volevo portare la versione automatica perché quella al quarto è sempre disponibile ma io non ce lo porto l'orologio al quarto il quarto a me non mi dice niente non volevo prendere quello automatico e non c'è mai e non c'è mai prima o poi lo porterò sul canale cap camarade square e come ultimo orologio che sono l'ho preso proprio oggi presento poi il mio rolex il mio primo rolex l'explorer e questo è proprio il nuovo il 40 mm bravo oggi mi hanno chiamato e lo sono andato subito a prendere bravo non ho aspettato neanche un secondo bravo bellissimo bellissimo e ti saluto fammi sapere che cosa ne pensi e sei un grande love 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 bravo bravo il 40 mm sarei curioso di provarlo anch'io per vedere come mi sta io all'explorer 39 mm ne sono contento l'ho preso però quello da 40 sono curioso di vedere se c'è così tanta differenza no si è voglia di guardare i video su youtube le comparazioni il tuo video quale persone la cosa che toglie ogni dubbio è andare provarlo e vedere come sta rispetto al 39 magari non si vede nemmeno non lo so magari c'è qualcosa in più non lo so però la curiosità c'è quindi prima o poi lo proverò lo proverò se mi riesce però vedo che tutti lo prendete quindi vuol dire che la disponibilità insomma c'è è tornato disponibile questi 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 maledetti rolex prossimo video vai ciao davide ciao innanzitutto complimenti per il canale grazie no mike da parma ma è che volevo farti vedere la mia modestissima collezione ma va non so se tutti sanno il tuo gradimento cioè il mio gradimento conta zero è cioè lo dovete sapere lo sapete perché se te lo dici però dentro di te sai benissimo che se ti piacciono a te te frega chiaro mi chiedi parere poi te lo dicono ti dico brutto bello brutto bello ciofeca ma lascia il tempo che trova perché te devi essere convinto delle tue scelte e a me mi fa piacere vedere orologi che non mi piacciono e questo anche il bello no mi fa vedere un orologio che non mi piace e io ti dico che non mi piace però intanto lo osservo cerco di capire perché a te piace cos'è che ti spinge ad avere quell'orologio lì e poi in alcuni casi magari riesco a cambiare idea cioè non neanche rimango fisso sulle mie idee ne ho cambiata ne ho cambiate parecchio nel tempo cioè quello che dico oggi non vale domani e purtroppo è così abbiamo gusti un pochino diversi a volte giusto però vabbè partiamo dai quarzi che io non disegno si sono fatti bene bene questi che sono quasi tutti citizen questo è un citizen ecco tra i crono gmt diciamo perché ha questa questa corona che fa girare questa ghiera interna con i vari ma non è gmt gmt ci vuole una quarta lancetta questo qua sarà ore del mondo poi vari nomi delle città con l'orario secondo me non è male credo per il mercato estero comunque io lo trovai anni fa su ebay poi questo radiocontrollato pvd crono 200 metri vetro zaffero brutto diciamo che ce le ha tutte data crono poi ho messo questo cinturino un po diciamo la verità cinturino è brutto 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 forte cioè non è non mi sembra nemmeno di qualità a vederlo così poi un bund marrone su una cassa pvd nera di un pilot che sarà 45 mm poi sai cosa c'è che non che non che non va che non mi piace anch'io avevo scelto un bund una volta per un mio emilton che era da 44 quindi ci capiamo la forma della parte sottostante della base del bund lì è tipo così a lancia così quasi ovale quando invece è meglio trovare un bund che segua la forma dell'orologio così che poi si allarga nei pressi della cassa e poi torna stretta gli sembra più fatto su misura per lui no io mi ricordo che me lo feci fare su misura proprio perché lo volevo su misura per l'emilton e gli di le misure fu il primo cinturino che feci fare da jonku straps che adesso è l'amico del canale non che mio fornitore di fiducia il primo fu il bund per l'emilton eh sì un po' mascolino mascolino poi poi c'è stato un regalo regalo in acqualand l'edizione limitata simpatico e che è brunito con questo verde abbastanza bello sì mi è stato regalato quando con il profondimetro quando ho fatto la il brevetto per l'immersione bravo bulova lunar pilot simpatico che anche se non è automatico io trovo fatto veramente bene certo come tridimensionalità un po' pesante quello sì poi io non sono abituato a portare a portare orologi braccialati anche se in realtà altri orologi ho i loro bracciali ma li ho sostituiti quasi tutti con cinturini in pelle ah sei delicatino eh ti vuoi tutti i cinturini belli sottili leggeri fini per far traspirare il tuo delicato polso bravo bravo e mettici un bracciale come si deve bello massiccio d'acciaio no da maschio alfa e poi ecco allora adesso gli automatici che sono quasi tutti Hamilton perché comunque è la mia marca preferita e trovo che come diciamo qualità prezzo siano abbastanza se non imbattibili buoni io purtroppo non posso permettermi orologi di lusso e non so neanche se li prenderei comunque Hamilton Marf bello Hamilton Marf mi piace ora poi ci dirai che versione è ma non puoi permetterteli non è vero eh non buttarti giù così perché hai tanti orologi che insieme potrebbero darti la possibilità di acquistarne uno più costoso hai capito? e il fatto è che non vuoi come io non voglio io non voglio un orologio da 40 50 mila euro preferisco avercene 3 4 5 da 5 mila euro da 4 mila hai capito? dipende un po' che punto si è con la propria con il proprio percorso nella passione io non dico di avere una quantità infinita di orologi c'è gente che ce li ha io penso di averne già anche troppi sono sopra i 30 e sono sono tanti però preferisco averne tanti e crogiolarmi tra le bellità di questi segnatempo piuttosto che averne due che costano tantissimo tenerli così e poi magari non indossare nessuno dei due perché devo andare a portare il giro il cane e entrambi gli orologi non mi non mi metto un bello orologione che mi piace per ogni occasione capito? quindi per il momento sono un po' per la quantità moderata ecco senza esagerare che io ho presi in realtà per il film dato che è uno dei miei film preferiti però poi mi sono reso conto che è un orologio molto valido certo e questa è la versione proprio quella con la 42 con il adesso qui non si vede comunque la scritta in codice Morse Eureka sui secondi che quello da 38 non ha Hamilton scuba l'ultima versione con la ghia in ceramica bello molto questo ho sia bracciale che cinturino in gomma per quando vado al mare originale suo però adesso mi piaceva questo nato bond che ho messo io ci sta bene ho testato anche questo a fare immersioni e niente da dire poi questo molto particolare però a te non piacerà a me piace molto Hamilton below zero verissimo in titanio questo la versione in titanio impermeabile a mille metri 100 bar con la valvola dell'elio e mi piaceva un orologio in stile militare bello massiccio essendo in titanio non è neanche così pesante ci mancherebbe e poi poi uno degli ultimi Hamilton un unico crono bello sto qua sto qua lo recensito anche io è bello mi fa quasi il lo scalza in dramatic io ho le dramatic da 40 mm e sto qua sarebbe uno di quelli che potrebbe scalzarlo no ma non lo scalziamo tengono in dramatic no però per chi deve scegliere che a zero che deve scegliere tra questo pilot pioneer e il dramatic è una bella lotta due forme cassa differenti due aspetti differenti ma belli entrambi c'è poco da dire dai l'automatico che ho Hamilton Pilot Pioneer secondo me è molto bello questo ah è carica manuale ecco se devo dire una cosa non mi piace il cinturino così con i due fori laterali doppio foro e che non rastrea ma che a quello cinturino gli si cambia e si fa fare un bel cinturino di quelli racing con l'impuntura bello è anche l'unico a carica manuale che ho e questo invece è il mio preferito che è stato il primo orologio serio che ho preso nel 2012 bravo e per me questo è bellissimo anche qui cinturino è stato pubblicizzato da Harrison Ford infatti si vede anche la firma per questa associazione ambientalista che puttare è un tiratura limitata vabbè dai è 200 metri automatico vetro zaffero ed è un GMT lo uso infatti un sacco nei viaggi mi piace molto viaggiare e qui ha una specie di finestra interna dove praticamente si può cambiare i vari fusi l'orario i minuti rimangono quelli e l'orario praticamente al doppio orario bello e l'ultimo acquisto io volevo un vintage però senza perché mi è venuta questa voglia mancava anche quella però non volevo incappare in problemi di sorta prima o poi un vintage vero da non spendere tanto lo prenderò però ho optato per questo IEMA bello ci piace questo wristmaster adventurer si a parte il quadrante che ora non lo fanno più ma l'ho trovato nuovo ancora in garanzia a un prezzo direi ottimo su un famoso sito e è il primo orologio bianco che ho e soprattutto di 37 mm ma devo dire che avevo paura che fosse troppo piccolo per i miei gusti invece secondo me non sta male sono molto contento e e basta e basta spero che ti siano piaciuti che non ci sia perlomeno una ciofeical no non ce n'è grazie a presto non ce n'è non ce n'è si è stato promosso con tutti gli orologi anche se qualcuno non mi piace ma sono tutti orologi belli lì il lo IEMA Traveler lì è fuori produzione tutto bianco non è che si legge tanto bene però le sfere tono su tono 37 mm va bene io avevo il Braille da 34 con quella forma a cassa lì particolare mi stava benissimo da 34 figurati da 37 34 era un po' al limite inferiore no 37 deve essere perfetto 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 poi il resto tutti i orologi come si deve quello below zero lì è particolare cioè tutto nero titanio pvd non è fuori dai miei gusti ma mi piace anche quello dai non c'ho nient'altro da aggiungere grazie per avermi dato il video e se è stato promosso boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua ed aver guardato i video insieme a me e vi ricordo semplicemente gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love e a a a